Ciopero, 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 ciopero. Sì, oggi siamo qui alla sede di Montacchiello di Amazon a Pisa perché stiamo scioperando rispetto a delle problematiche che si sono presentate che riguardano la cassa integrazione, l'apertura di cassa integrazione che ci è stata comunicata tre giorni prima della busta paga e retroattiva al mese di gennaio. Ci sembra assurdo che si possa accedere a questi ammortizzatori quando Amazon negli ultimi anni e grazie anche alla pandemia ha incrementato i propri introiti. Ci stiamo battendo per applicare una franchigia idonea che sarebbe 250 euro, invece fino ad oggi la nostra azienda ha applicato 500 euro gravando sulle spalle dei lavoratori e facendoli accumulare debiti assurdi. Grazie anche a un accordo che è stato firmato dalla nostra azienda che riguarda il contratto collettivo nazionale di livello 2 non ci è stata applicata l'integrativo regionale di 56 euro e quindi oggi siamo qui perché chiediamo che i nostri diritti vengono rispettati perché crediamo che sia giusto e perché crediamo anche nel lavoro che facciamo tutti i giorni. Oggi siamo qui, stiamo scioperando perché qui al magazzino Amazon da più di due mesi ci stanno massacrando di consegne ci stanno facendo fare 170 consegne al giorno. Abbiamo chiesto già le settimane scorse ad Amazon di abbassare il numero delle consegne perché ormai è diventato un lavoro improponibile. E oggi siamo qui insieme in due ditte a fare lo sciopero e a farci sentire davanti a cancelli di Amazon perché non ce la facciamo più! Siamo qui in tanti fuori da cancelli di Amazon per scioperare, per impedire che i crumiri sostituiscano i colleghi in sciopero perché vogliamo abbassare gli stop, lavorare in sicurezza e che venga firmato un accordo pari per tutti i driver dell'indotto Montacchiello.